ciao amici di moto.it no 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 amiche di moto.it oggi ci rivolgiamo solo alle motocicliste è vero hai ragione perdonami cristina infatti abbiamo deciso di dare a 10 di voi la possibilità grazie a ktm italia di provare che cosa la bellissima la bellissima duke 390 diventare tester per un giorno con noi di moto.it moto bellissima facile divertente una moto facile facilissima divertente molto bella anche nella linea accattivante allora per tutte le informazioni riguardanti la duke 390 fate riferimento a cristina che sa tutto ma io so le date invece perché 7 giugno è il termine per mandarci i vostri video dove testimoniate la vostra passione per la moto e ci raccontate perché no anche qualcosa di voi 9 giugno invece il termine delle selezioni e poi finalmente il 15 giugno tutti insieme saremo in ktm italia per un bel giro in moto noi io beato tra le donne esatto sei fortunatissimo e soprattutto ci sarà cristina che vi guiderà in questo bellissimo giro faremo un bel giro sulle colline intorno a bergamo abbiamo anche qualche sorpresa per chi riuscirà a partecipare a questo evento tutte le informazioni per partecipare a questa giornata tester per un giorno insieme a ktm con la duke 390 le trovate qua sotto al video ci sarà un testo a corredo dove troverete tutte le informazioni poi se avete qualche dubbio scriveteci e cercheremo di rispondervi ok noi vi aspettiamo correte tutti in sella raccontateci chi siete la vostra passione tutte tutte perdonatemi sono abituato a passare il tempo con la redazione finalmente starò con 11 ragazze 10 più cristina noi vi aspettiamo ciao ciao